Allora, prima di incominciare a registrare questa recensione mi sono ripromessa di non fare scenate infantili del tipo... tipo cose del genere e di cercare di mantenere un pizzico diciamo di professionalità. Ribadiamo come sempre prima di incominciare che i pareri espressi nella recensione sono pareri puramente personali e soggettivi per cui se doveste volere ovviamente esporre il vostro parere in commento sia esso anche discordante dal mio vi prego di ricordarvi il rispetto delle opinioni altrui. Questo ci tengo sempre a sottolinearlo ragazzi perché ogni volta è una guerra su questa questione. So benissimo che ovviamente ci sono persone a cui il film non è piaciuto, a cui il film non è entusiasmato, che hanno trovato diversi difetti in esso e quindi immaginerete che invece per me ragazzi non è stato assolutamente così. Quello che vi posso dire a primo impatto è che sicuramente questo film mi ha colpita moltissimo, mi è piaciuto da morire, ragazzi mi è piaciuto da morire dire poco e in un certo qual senso è riuscito anche a sconvolgermi per quanto ragazzi sia bello, cioè per quanto io lo abbia potuto trovare bello sotto praticamente tutti i suoi punti di vista è riuscita veramente a sconvolgermi e per questo ovviamente mi sono preparata una piccola scaletta dei vari punti di cui voglio parlarvi. Non mi sono preparato un discorso quindi come sempre ragazzi potrei andare svarionando da un argomento all'altro, vi chiedo scusa in anticipo per questo ma sapete benissimo che preferisco dire le cose a braccio così come come mi vengono. Quindi sì, ieri sera sono andata a vedere Joker, lo si stava aspettando da tanto tempo ragazzi perché penso che sia più di un anno che hanno mostrato per la prima volta tipo il make up di Joker in quel brevissimo trailer, chiamiamolo così, di presentazione, penso sia stato un anno fa e quindi è da allora che ovviamente ragazzi non hanno fatto altro che aumentare l'hype nel pubblico a livelli stellari perché effettivamente penso che l'hype di chiunque perlomeno degli amanti del mondo DC, degli amanti di Batman, degli amanti di Joker, penso che chiunque ragazzi arrivati a questo punto avesse l'hype a livelli assolutamente stellari. Io ce l'avevo, come avevo detto nelle varie reaction ai trailer le mie sensazioni erano più che positive e immaginavo che molto probabilmente queste non sarebbero state, che le mie aspettative non sarebbero state deluse e infatti ragazzi così è stato, come vi ho detto poc'anzi il film l'ho trovato assolutamente incredibile, assolutamente fantastico, non me la sento di dire capolavoro perché la gente dice che questo qua ormai è un termine che ha perso di significato perché lo si usa in qualsiasi occasione, quindi non mi sento di dire capolavoro anche se lo penso, vi dirò la sincera verità, ma è veramente qualcosa di incredibile, penso uno dei film più belli che io abbia visto negli ultimi tempi, ovviamente ragazzi io comunque da profana so di non essere sicuramente come certe persone cinefile che adorano il cinema e che quindi conoscono tutto del cinema, quindi non mi permetto di fare paragoni con altri film che per esempio sono usciti quest'anno, ma nella mia personale esperienza posso appunto sicuramente dire che è uno dei film più belli che io abbia visto ultimamente. Penso che comunque ragazzi i miei pareri siano stati abbastanza diciamo influenzati fra molte virgolette dal fatto che ovviamente il film fosse su Joker perché voi il mio nickname stesso qua su YouTube ragazzi sapete benissimo e il mio nickname stesso parla, sapete benissimo che appunto io sono un'amante sfegatata del Joker, penso dal momento in cui vidi appunto il Joker interpretato da Heath Ledger, quindi il fatto che il film fosse su Joker ragazzi ha influenzato penso comunque il mio parere ma penso che comunque oggettivamente parlando si possa dire che il film in sé ragazzi è davvero un bel film, poi ripeto ognuno ai propri pareri, magari c'è chi non l'ha trovato da nessun, da alcun punto di vista un bel film per cui ovviamente De Gustibus, però vabbè arriviamo ragazzi ai punti che mi sono segnata perché sennò qua passiamo veramente tre ore. Sembrerebbe ragazzi esserci stato un particolare dibattito sul fatto che questo film sia o meno un cinecomic, cioè c'è la gente ragazzi ho visto che se sta a scannare nel vero senso della parola perché c'è chi dice sì questo è un cinecomic, c'è chi dice no questo non è un cinecomic, la gente si sta scornà pensando solo ed unicamente a questo riferendosi a questo film e penso che sia una cosa totalmente sbagliata perché c'è adesso ragazzi diciamocelo, è un cinecomic, non è un cinecomic ma chi se ne frega, cioè badiamo al film in sé. Se vi steste chiedendo io cosa ne penso, se penso che sia o no un cinecomic vi ripeto a me questo sinceramente non interessa, penso che comunque ragazzi i personaggi trattati facciano sì che effettivamente lo si possa considerare un cinecomic nel senso che comunque Joker è un personaggio dei fumetti ovviamente, anche gli altri personaggi che sono presenti nel film come per esempio Thomas Wayne, la stessa Gotham City comunque sono elementi ragazzi effettivamente presenti nei fumetti di sì, per cui visto che comunque l'argomento trattato anche se totalmente a sé è un qualcosa che è stato creato diciamo per fumetti, penso che effettivamente lo si possa considerare un cinecomic, però a me sinceramente ragazzi è, non lo è, sinceramente ripeto non interessa affatto. Chiuso quindi questo piccolo argomento passiamo anche a un punto su cui voglio appunto soffermarmi un attimo e con particolare attenzione perché ragazzi sicuramente il paragone con, già questa parola non mi piace, infatti io nei miei punti ragazzi l'ho messa fra virgolette, quindi diciamo che il paragone con la performance di Heath Ledger penso che purtroppo, e sottolineo purtroppo, sia totalmente inevitabile. Perché? Perché è stata l'ultima interpretazione direi estremamente valida di questo personaggio, di questo villain, di questo Joker, perché ragazzi il Joker di Leto sinceramente io non mi sento nemmeno di considerarlo tale, quindi adesso potete anche linciarmi, ma sinceramente me ne prego un cazzo. E quindi ho visto la gente concentrarsi molto anche su questo, sul fatto che Heath Ledger ovviamente ci abbia regalato ragazzi una interpretazione del Joker assolutamente penso leggendaria. Ovviamente c'è gente che già all'epoca con Ledger faceva il paragone con l'interpretazione di Nicholson, purtroppo ragazzi queste sono cose che succedono. Quando ovviamente più interpreti interpretano la stessa parte, lo stesso ruolo, il paragone penso sia inevitabile. Però a mio modesto parere non credo che questo ragazzi sia tanto giusto farlo, nel senso ma sia con Ledger, sia fra Phoenix e Ledger, sia fra Phoenix e Nicholson, fra Ledger e Nicholson e così via dicendo. Penso che non sia tanto ragionato fare ragazzi un paragone del genere perché ovviamente ogni attore è a sé, quindi ogni interpretazione è a sé. Quando ovviamente l'interpretazione non è degna di nota, come nel caso di Leto, non c'è stammacco da dirlo, nel senso che c'è quello non esiste nemmeno, capito? Quando si tratta di mostri tipo Nicholson, tipo Ledger che purtroppo ci ha lasciati troppo giovane ma che era ragazzi una incredibile promessa del cinema e mostri come Phoenix perché Phoenix ragazzi già comunque in passato ha dato incredibile prova delle sue capacità interpretative. Quando ci troviamo di fronte a mostri del genere non secondo me ragazzi non il paragone non esiste, non esiste perché ognuno è a sé quindi Ledger sicuramente a modo suo ragazzi è inarrivabile come lo è Nicholson, come lo è Phoenix quindi ognuno è a sé, ognuno ha dato la propria interpretazione del Joker che ovviamente ragazzi erano anche in contesti diversi perché ovviamente il Joker di Nicholson era in un contesto, quello di Ledger in un altro e questo di Phoenix in un altro quindi anche questo sicuramente influisce sul fatto che gli Joker in un modo o nell'altro siano diversi fra di loro. Voi sapete benissimo ragazzi quanto io abbia adorato e ancora tutt'oggi adori l'interpretazione di Ledger perché è lui che mi ha fatto innamorare perdutamente di questo villain, di questo personaggio ma ragazzi ripeto il paragone non è possibile Phoenix vabbè ne parleremo più avanti perché voglio dedicargli comunque un punto a sé è stato assolutamente leggendario secondo me ragazzi e vi anticipo che penso che abbia avuto qualcosa in più rispetto a Ledger ma questo non significa che appunto adesso io stia considerando di minore spessore l'interpretazione di Ledger attenzione ragazzi perché poi la gente si scatena cioè appena sentono un neghe proprio tutti oddio no che cosa stai dicendo non è possibile ci torneremo più avanti. Allora parliamo adesso io non posso ragazzi riuscire ad entrare proprio negli aspetti tecnici perché io non sono un'esperta di cinema però vi posso parlare comunque del film nel complesso della regia, della fotografia, della colonna sonora insomma i tre aspetti penso comunque fondamentali oltre anche alla sceneggiatura vabbè in un film ragazzi comunque tutti gli aspetti sono assolutamente importanti però questi sono i tre aspetti su cui voglio soffermarmi proprio un attimino in più. Il film nel complesso ragazzi come vi dicevo all'inizio l'ho trovato bellissimo veramente meraviglioso si sarà il fatto che con un film sul Joker e quindi questo probabilmente mi ha influenzato nel mio parere finale ci può stare però io penso ragazzi che abbastanza oggettivamente parlando il film in sé sia fatto molto molto bene adesso togliendo l'interpretazione quindi togliendo gli attori parliamo degli aspetti un po' più tecnici registicamente parlando ragazzi il regista è Todd Phillips che tra l'altro ho scoperto essere stato il regista di film tipo Road Trip che io non ho mai visto ma del quale mi parla sempre Rodrigo perché è un film che lo fa ridere tantissimo quindi comunque si tratta di una commedia comica e ho scoperto essere il regista di Notte da Leoni film che a me personalmente non sono piaciuti li ho visti tipo una volta ma perché non mi piace il genere non perché i film in sé magari non siano fatti bene perché probabilmente i film in sé sono anche fatti bene però personalmente parlando non mi piace il genere quindi non li ho potuti apprezzare ovviamente appieno e quindi quando ho scoperto che è stato il regista di questi film qua ci sono rimasta di sasso perché ovviamente ragazzi quando poi un regista si lega ad un genere magari poi rimane ancorato a quel genere per tutta la vita non necessariamente e infatti in questo caso ragazzi Todd Phillips ci ha dato un'incredibile dimostrazione del fatto che può discostarsi anche magari dal genere cui è rimasto ancorato fino a non so a poco tempo fa fino a pochi anni fa ditelo come volete questa dimostrazione secondo me ragazzi ce l'ha data alla grande in questo film è stato veramente molto bravo a me dal punto di vista della regia mi ha stupito tantissimo direi che sì registicamente è veramente molto molto figo cioè ci sono state veramente tante inquadrature di impatto secondo me ed è stato bravissimo anche a saperle gestire ovviamente ragazzi vi ripeto non posso entrare più nel dettaglio perché io di cose tecniche purtroppo non me ne intendo però vi posso dire che sicuramente registicamente parlando ragazzi il film mi ha colpito molto i primissimi piani mi piacciono un casino e qui sono stati usati perché cioè il primissimo piano ragazzi veramente mette incredibilmente in risalto il volto dell'attore e quindi in quel caso la capacità recitativa dell'attore stesso quindi fantastico bellissimo quindi direi che Todd Phillips è stato bravissimo proprio al cento per cento personalmente parlando ripeto sottolineiamo l'ho trovato veramente molto figo dal punto di vista della regia dal punto di vista ragazzi della fotografia che dire che dire io sono rimasta super colpita cioè dalla prima scena ragazzi che si vede del film è la primissima cosa cioè quando ho visto la prima immagine del film sono rimasta allipita e infatti la prima cosa che gli ho detto a Rodrigo è stata ammazza hai visto che fotografia è bellissimo dal punto di vista della fotografia ragazzi questo film è incredibile secondo me sia dal punto di vista in certi momenti ragazzi di giochi di luce dell'uso della luce che hanno fatto e cioè è bellissimo ragazzi cioè da vedere questo film è bellissimo nel senso che ripeto la prima cosa che mi ha colpito nella prima immagine che ho visto del film sono stati i colori sono stati sì questi colori che effettivamente sembrano esserci ma non esserci nel senso che il film di per sé sembra essere molto spento dal punto di vista dei colori perlomeno all'inizio è così se non sbaglio adesso ragazzi ho visto il film solo una volta sono ancora sconvolta perché non ancora elaboro quello che ho visto perché mi ha colpito talmente tanto che mi ha lasciato così esterrefatta io il film dovrò andarlo a rivedere dovrò perché il gelava uretta a Rodrigo che se il film mi fosse piaciuto ci saremmo andati una seconda volta infatti ci devo tornare per riguardarlo a mente un po' più fredda però se non sbaglio i colori verso la fine del film se non erro ripeto si accendono un po' di più questo ovviamente ha un significato quindi è incredibile ragazzi il modo in cui sono stati capaci di fare la fotografia di questo film è veramente pazzesco per ripeto non solo i colori non solo questa tonalità così un po' spenta del film ma anche l'uso delle luci secondo me è stato pazzesco ragazzi veramente è stato incredibile è incredibile dal punto di vista della fotografia ragazzi questo film l'ho trovato pazzesco la colonna sonora che dire anche della colonna sonora io già vi avevo detto ragazzi nelle reaction che se le musiche fossero state come quelle che sono state usate nei trailer il film avrebbe avuto una colonna sonora pazzesca e quindi sì anche questo aspetto ragazzi l'ho trovato assolutamente pazzesco la colonna sonora del film è bellissima penso cioè che in alcuni momenti sono state comunque utilizzate canzoni tipo una canzone ragazzi che si sente pur inizio se non sbaglio di Frank Sinatra me l'ha confermato mia mamma che tra l'altro saluto che è venuta a guardare il film con noi ieri sera quindi una delle canzoni ad esempio era cantata quindi era di Frank Sinatra quindi sono state usate in alcune occasioni magari canzoni già preesistenti ma per il resto del film ragazzi pure la colonna sonora è stata creata ed usata in maniera assolutamente incredibile ci sono sempre questi momenti in cui la musica è capacissima di farti capire quale sia la vera atmosfera della situazione del momento ed è capace di coinvolgerti incredibilmente ancora di più è capace di coinvolgerti all'ennesima potenza in quello che stai guardando quindi te lo fa vivere emozionalmente parlando emotivamente parlando al mille per cento secondo me ho notato poi tra l'altro non vorrei dire una blasfemia è stata una sensazione mia probabilmente solo una sensazione mia che ci sono stati dei momenti ragazzi in cui sono stati usati gli archi quindi non erano violini erano archi sicuramente più grandi tipo viola violoncello in cui sono stati usati come lo erano stati usati ragazzi con il Joker di leggerne il Cavaliere Oscuro vi ricordate quel motivetto del violino che strideva che c'era sempre quando si sapeva che c'era il Joker lì che c'era anche solo la sua essenza se non sbaglio c'è stato qualche momento in cui il motivo diciamo il motivetto mi ha ricordato quel suono lì ovviamente non erano gli stessi violini erano appunto tipo viola violoncello ma mi sembra che il motivo ragazzi fosse un pochettino lo stesso infatti c'è stato un momento in cui ascoltavo questi suoni e dicevo cavolo a me ricorda un po' quel leitmotiv che c'era nel Cavaliere Oscuro ovviamente magari sicuramente non lo è sicuramente ripeto è stata soltanto una sensazione mia ma ragazzi anche la colonna sonora è incredibile assolutamente incredibile cioè è perfetta è perfetta ed è stata usata altrettanto perfettamente secondo me adesso sicuramente tutti ma tu sei di parte perché te che piace il Joker quindi non puoi vedere difetti in questo film cioè ragazzi allora mi fosse piaciuto già prima o non mi fosse piaciuto già prima il Joker penso che avrei espresso questi stessi identici pareri perché io mi conosco ragazzi quindi piacendomi o non piacendomi già prima il Joker questo film mi avrebbe fatta impazzire comunque quindi c'è ai miei occhi tutti questi aspetti che vi ho elencato ragazzi sono stati assolutamente perfetti cioè assolutamente fighi fighi cioè troppo 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 belli veramente usati altrettanto magistralmente perché tutti ragazzi tutti questi aspetti messi insieme utilizzati così magistralmente sono stati capaci di creare sono capaci di creare in questo film un'atmosfera assolutamente unica cioè l'atmosfera ragazzi che vivi nel film già solo quello già solo sto film vale per l'atmosfera che ha che ha dall'inizio quell'atmosfera che ti trasmette questo questo senso di inquietudine dall'inizio pazzesco parliamo ora ragazzi dell'interpretazione di Phoenix allora perché ho letto pareri che dicono ma soltanto Phoenix cioè questo film vale soltanto perché c'è lui cioè perché cioè ragazzi ficchiamoci in testa che questo film riguarda un solo personaggio io ho letto persone che dicevano ma gli altri personaggi cioè nessuno spessore mettiamoci in testa ragazzi che in questo film doveva ruotare tutto attorno a lui tutto attorno al personaggio di Arthur Fleck alias Joker che poi diventerà Joker perché appunto ragazzi il film parla di come venga alla luce questo personaggio questo non è che uno spoiler non è un segreto già lo sapevamo quindi cioè che mi dite che dite no ma allora gli altri personaggi cioè questo film è lui capite è lui cioè non poteva essere altrimenti cioè che cosa aspettavate di vedere cioè a parte che comunque non è che gli altri personaggi siano totalmente assenti anzi ci sono hanno il loro spessore se vogliamo dirla così hanno la loro importanza ma perché hanno la loro importanza perché sono importanti per lo sviluppo del personaggio in questione ragazzi questo film è Arthur Fleck cioè questo film è Phoenix sì è Phoenix è solo lui punto gli altri sono contorno ma non perché non abbiano voluto sviluppare a modo gli altri personaggi ma perché è così perché gli altri personaggi sono soltanto un contorno a quello che è Arthur Fleck a quello che sarà Joker punto cioè non ci potete stare a discutere su questo perché questo il film si chiama così si chiama Joker punto quindi è lui il fulcro di tutto e ragazzi caspiterina parlando di questo punto cioè parlando dell'interpretazione di Phoenix oddio raga sto venendo a piangere cioè se solo ci rifenzo ragazzi i brividi o il batticuore io vi dirò sinceramente che io dall'inizio della proiezione vi dirò sinceramente ragazzi ho guardato questo film col batticuore ma positivamente parlando col batticuore perché dal primo momento in cui ho visto Phoenix c'è stata emozione pura cioè lui ragazzi pur non facendo assolutamente niente cioè lui nel film poteva non stare facendo assolutamente niente già aveva vinto tutto già ha vinto tutto ragazzi accidenti cioè devono 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 dare un Oscar a quell'uomo cioè Oscar adesso adesso in questo istante gliela devono dare la statuetta gliela devono dare ragazzi cioè l'interpretazione di Phoenix è qualcosa di assolutamente leggendario ragazzi mi sento di dirlo non me ne frega un cazzo se qualcuno mi verrà a dire che esagero l'interpretazione di Phoenix è assolutamente leggendaria ragazzi leggendaria ora ritornando un attimo al paragone con Ledger sapete benissimo come vi dicevo prima ragazzi quanto io ami abbia amato e ami tuttora il Joker di Ledger ma devo essere brutalmente sincera prima di tutto con me stessa con me stessa ragazzi e poi con voi e devo ammettere che come vi dicevo poc'anzi che l'interpretazione di Phoenix è riuscita a darmi qualcosa in più io adesso magari se scatena il putiferio gli amanti di Ledger tutto quello che volete ma io penso ragazzi che nella vita bisogna essere assolutamente obiettivi prima di tutto con se stessi e io voglio esserlo con me stessa e non credo di fare un torto diciamo così a Ledger all'interpretazione di Ledger non credo di fare un torto all'amore che io provi per quel personaggio lì e per la sua interpretazione dicendo che questa interpretazione di Phoenix ragazzi mi ha stregata mi ha assolutamente stregata perché come vi dicevo poco fa ho trovato questa interpretazione assolutamente leggendaria ragazzi è è incredibile cioè ed è indescrivibile cioè lo puoi capire soltanto se lo vedi ma già dei trailer si capiva ragazzi che ci aveva ha fatto qualcosa di assolutamente incredibile perché ragazzi io vi giuro dio mi sto emozionando già solo a ricordarmelo è assolutamente pazzesco cioè in questo film non è Phoenix che interpreta Arthur Fleck lui è Arthur Fleck ragazzi glielo si legge in faccia glielo si legge negli occhi glielo si legge nello sguardo in qualsiasi movenza in qualsiasi cosa lui abbia fatto in questo film ragazzi anche solo star fermo è lui è lui non è un attore che interpreta nemmeno leggerlo era perché anche leggere è stato così bravo da essere lui ma qui ragazzi io penso che abbiamo raggiunto livelli assolutamente stellari perché cioè secondo me lo ridicevo ieri sera già dal punto di vista fisico della fisionomia ragazzi del viso già per quello è assolutamente perfetto questo ve l'avevo detto già nelle reaction cioè che tu lo guardi ragazzi cazzaro la miseria e tu dici sì è lui per il viso che ha quando lo guardavo di profilo cioè secondo me è perfetto da ogni punto di vista anche il naso cioè mi sembra veramente che sia così giusto per quel ruolo che fa spavento assolutamente e poi ragazzi c'è al parte che appunto ho letto che ho dovuto perdere tipo 25 kg per fare questo ruolo ed è ed è stato così giusto perché ovviamente il personaggio che interpreta necessitava comunque che fosse un personaggio molto magro molto emaciato eccetera un po' tipo malaticcio un po' dinoccolato quindi già questo ragazzi c'è è tutto c'è questo 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 personaggio è la vita è assolutamente la vita e Phoenix è stato leggendario io me la sento di dirlo e di ripeterlo di affermarlo convinta che questa interpretazione merita l'Oscar cioè ad occhi chiusi ad occhi chiusi non mi interessa neun cazzo di che altri film ci sono stati di che altri attori protagonisti possano essere stati bravi quanto vi pare ragazzi ma secondo me lui si è assolutamente superato perché lui è diventato Arthur Fleck lui è Joker in questo film è si vede si vede glielo si legge dagli occhi che è un'altra persona è un'altra persona è quella persona è stato mostruoso ragazzi assolutamente spaventoso perché secondo me ragazzi questa interpretazione colpisce ancora di più rispetto alle altre interpretazioni che ci sono state di Joker perché adesso passiamo all'altro punto secondo me ragazzi quello che hanno voluto costruire di questo personaggio è molto più profondo scava molto più nel profondo della sua psiche della sua storia e quindi ci hanno fatto vedere ragazzi il Joker umano ci hanno fatto vedere Joker uomo questo secondo me è stato assolutamente fondamentale per far sì che questo personaggio colpisse ancora di più nel vivo ragazzi perché gli altri Joker che abbiamo visto sono Joker comunque molto fumettistici a mio parere Nicholson secondo me è proprio il fumettistico per eccellenza Ledger gli aveva dato quel qualcosa in più forse di umano però comunque rimaniamo sempre in quell'aspetto lì comunque in un Joker che noi vediamo così com'è non andiamo a scavare nel suo passato nella sua psiche diciamo che non viene fatta un'analisi più profonda di questi personaggi nel senso certo ce l'abbiamo così è così quello di Ledger è stato un pelino forse più umano perché ce l'hanno fatto vedere forse un pochettino più criminale diciamo così fra molte virgolette però qua ragazzi il punto vincente è che appunto essendo un prequel diciamo molto così fra molte virgolette nel senso essendo il racconto di come questo uomo perché lui effettivamente è un essere umano ecco perché negli altri casi ragazzi forse non abbiamo potuto empatizzare totalmente con loro perché con gli altri Joker dico perché comunque li vedevamo già così nel senso non è che c'è stato uno sviluppo del personaggio in cui abbiamo potuto accompagnarlo eccetera cosa che invece qui è avvenuta e quindi questo penso sia l'aspetto fondamentale di questo film la profondità dello scavare nella sua lenta discesa nella follia sappiamo benissimo ragazzi che Joker è un personaggio totalmente folle totalmente senza controllo totalmente senza regole re del caos diciamo così e quindi vederlo trasformarsi lentamente in quello in quello che è il personaggio che noi effettivamente conosciamo penso che sia una carta vincente assolutamente incredibile anche perché appunto ragazzi ci danno la possibilità di empatizzare con lui perché lo vediamo come essere umano fondamentalmente per penso tipo la maggior parte del film e quindi il film in sé è un accompagnarlo quindi un accompagnare Arthur Fleck in questa sua discesa lenta nella follia ed è pazzesco già solo questo ragazzi perché vi dicevo che il film è lui è Arthur Fleck perché effettivamente la storia ruota tutta attorno a lui perché è giusto che sia così si sta analizzando parlando di questo personaggio è ovvio che gli altri personaggi sono di poco spessore di poca importanza anche se come vi dicevo nemmeno di tanta poca importanza ragazzi perché come vi dicevo c'è uno sviluppo comunque del personaggio non è che lui dall'inizio è così adesso non voglio entrare troppo nei dettagli perché magari poi mi dite che faccio spoiler però penso che il senso di questo film sia incredibile ragazzi per questo motivo perché ci fanno vedere effettivamente il mondo non il mondo e la storia di Arthur Fleck non da fuori cioè si un po' da fuori ma soprattutto dal suo punto di vista questo non credo che sia proprio palese nel film ma è incredibile che ci siano riusciti perché ragazzi cioè effettivamente si sta parlando comunque di un personaggio che è effettivamente un antagonista di un personaggio che è un cattivo di un personaggio che nella storia dei fumetti comunque ha fatto cose terribili per dire quindi comunque di un arcinemico di qualcuno che effettivamente dovrebbe essere cattivo con il quale magari non puoi empatizzare invece sono stati così bravi ragazzi perché perché facendoci vedere il mondo che lo circonda anche dal suo punto di vista si arriva nel film ovviamente ad empatizzare con lui e questo è assurdo perché ovviamente uno dice questo qua è un folle è un tipo che magari può arrivare a fare cose terribili senza il minimo rimorso quindi capite che è paradossale dire che si arriva ad empatizzare con lui ma è stato fatto benissimo questo secondo me perché ti fanno empatizzare con lui e cioè ragazzi non so manco come spiegarvelo senza appunto entrare nello spoiler però vi dico che questo è stato fatto incredibilmente sapientemente ragazzi e quindi la storia è incredibile a mio parere perché è bellissimo cioè è bellissimo come siano riusciti a far vedere come lui appunto possa alla fine diventare quello che effettivamente lui forse già era dentro di sé ma come possa e cosa gli scateni tutto ciò che alla fine lo porta ad essere cioè a tirare fuori quello che effettivamente forse lui era già nel suo profondo cioè è bellissimo ragazzi è veramente bellissimo un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo film ragazzi è che principalmente è quasi tutto mentale è quasi tutto psicologico ed è incredibile come un film possa riuscire comunque a prenderti standogli a spulciare soltanto principalmente l'aspetto psicologico psichico e mentale del personaggio in questione perché io qua ho scritto il punto l'uso della violenza in questo film questo ragazzi ci fa capire che non è necessario mostrare quanto un personaggio possa essere violento per farci capire quanto magari pericoloso sia questo personaggio adesso non so manco tanto come spiegarvi perché ragazzi ho detto l'uso della violenza in questo film perché effettivamente di violenza in questo film grazie al cielo direi ce n'è poca molto poca ed è stata usata sapientemente anche questa perché sono momenti cruciali penso anche questi ma sono pochi e quindi è stato fatto bene anche questo nel senso che come vi dicevo non è stato necessario far vedere quanto fisicamente questo personaggio possa essere violento per farci capire invece quanto la sua sanità mentale stesse praticamente precipitando quindi è stato fatto un uso sapiente anche della violenza in questo film nel senso che è stata usata veramente molto poco ma quando è stata usata comunque è stata usata in maniera giusta nel senso è stata usata poco ma come vi dicevo sono momenti assolutamente fondamentali dello sviluppo del personaggio in questione quando vi dicevo ragazzi poco fa che la gente si è lamentata che gli altri personaggi non sono di spessore non sono stati ben caratterizzati eccetera eccetera a parte che secondo me non è vero perché comunque i personaggi secondari sono stati ben caratterizzati poi ragazzi c'è Robert De Niro che voglio dire nel suo ruolo comunque non compare tanto spesso ma è stato assolutamente fantastico vabbè De Niro ragazzi è una delle colonne del cinema ma anche gli altri personaggi tipo la madre di Arthur cioè questi piccoli personaggi secondari secondo me sono stati caratterizzati bene comunque ma per quanto appunto sembrino di poco spessore invece sono assolutamente fondamentali tutti loro ragazzi come è stato fatto l'uso della violenza in questo film che in quei suoi pochi momenti ragazzi è stata fondamentale per lo sviluppo del personaggio lo stesso accade per questi personaggi secondari perché possono sembrare di poca rilevanza ed essere presenti magari comunque poco quello che vi pare ma effettivamente nello sviluppo del personaggio in questione sono assolutamente importanti quindi chi in un modo chi in un altro non voglio spollerare assolutamente niente la madre di Arthur in un modo morrei in un altro quindi sarebbe a dire De Niro in un altro e così via quindi non è vero che questi personaggi sono di poco spessore magari non li hanno fatti vedere chissà quante volte ma perché cavolo dovevano farli vedere più di quanto li abbiano fatti vedere non capisco quindi non sono d'accordo su questo perché secondo me i personaggi li hanno caratterizzati più che bene e poi si capisce ragazzi benissimo quanto invece questi personaggi siano importanti appunto come vi dicevo per la totale discesa nella follia di Arthur Fleck non voglio dire troppo altro perché se no magari spoiler o qualcosa involontariamente andiamo verso i due ultimi punti che ho segnato ho letto che Phoenix ha detto che magari un sequel a questo film non si potrebbe escludere c'è gente che dice che magari appunto ci potrebbe essere un sequel a questo film oddio ragazzi io spero con tutta me stessa che sinceramente non lo facciano perché questo film ragazzi è perfetto così com'è questo personaggio è perfetto così com'è è assolutamente leggendario e quindi deve rimanere leggendario nella sua unicità quindi nel suo unico film secondo me metterlo in qualche altro film fare un sequel di questo oppure inserirlo in qualche altro cinecomic mo ci vuole secondo me significherebbe assolutamente sminuire andare a svilire tutto quello che questo film è riuscito a costruire attorno a questo personaggio perché vi ripeto ragazzi è leggendario così com'è accidenti quindi questo film deve rimanere intoccato così com'è idem il suo personaggio perché vi ripeto secondo me farlo comparire da qualche altra parte per quanto comunque l'interpretazione di phoenix potrebbe essere magnifica secondo me andrebbe proprio a smerdare ragazzi tutto quello che questo film ci ha dato secondo me deve rimanere unico così com'è unico e intoccato quindi io spero con tutto il cuore che non facciano sequel e che non inseriscano questo personaggio in qualche altro film perché secondo me non ne vale non che non ne vale la pena in che senso secondo me non non serve non serve perché cioè si è costruito già tutto in questo film di questo personaggio non serve dire altro non serve fargli fare altro perché è perfetto così com'è per quanto riguarda il finale effettivamente lascia un po' nel dubbio io ripeto ora non posso entrare nello specifico perché significerebbe fare spoiler però vi dirò che se voi che l'avete visto siete rimasti con un piccolo dubbio ci sono rimasta sinceramente anche io ma non perché non vi abbia convinto il finale attenzione ma perché il finale di per sé ti fa pensare a tutto il film cioè a tutto quello che è successo capite quindi non sto dicendo che il finale fa cagare o che non è azzeccato no va benissimo così è perfetto è solo che l'hanno fatto così bene anche quello anche quello il finale che mi rimane interdetto e ti dici ah ok quindi sì se siete rimasti col dubbio voi ragazzi anche io sono rimasta col dubbio perlomeno se ci sono rimasta solo io ma non credo ditemi qualcosa pure voi ragazzi ovviamente fate attenzione agli spoiler per favore nei commenti allora io penso di aver detto tutto quello che pensavo su questo film ho parlato un'infinità di tempo ragazzi mi rendo conto però sapete benissimo che mi sento sempre di dire tutto quello che voglio dire e comunque ci sarà una piccola parte spoiler fra poco perché voglio parlarvi un attimino di un paio di cose e quindi che dire ragazzi che questo film promosso assolutamente al 100% dalla sottoscritta io gli do un 10 cioè un 10 così spassionato assolutamente proprio dal profondo del mio cuore se lo merita in tutto e per tutto ovviamente fatemi sapere la vostra ragazzi ricordiamoci sempre nel rispetto delle opinioni altrui se l'avete visto se non l'avete visto magari potete poi tornare a guardare la parte spoiler in ogni caso ragazzi grazie a tutti per aver avuto la pazienza di guardare la recensione fino a qua che altro dire quindi grazie a tutti io vi mando un saluto un bacione e entriamo quindi nella parte spoiler allora cercherò di non dilungarmi troppo però ragazzi è assolutamente incredibile quello che hanno fatto in questo film come vi dicevo per esempio ragazzi i personaggi sono assolutamente fondamentali gli altri personaggi quindi i personaggi secondari sono assolutamente fondamentali per lo sviluppo del personaggio di Arthur perché vediamo che anche loro in qualche modo contribuiscono a questa sua discesa nella follia che avviene dall'inizio è interessante vedere come effettivamente ragazzi Joker di base diciamo Arthur Fleck di base non è che sia un pazzo folle cioè che fa cose assurde già di per sé no è questo che mi è piaciuto di questo film che appunto c'è stato un lento sviluppo del personaggio fino a farlo diventare quello che effettivamente è l'essenza di Joker perché all'inizio ragazzi noi incontriamo questo Arthur Fleck un uomo comunque non so se si può considerare sulla quarantina forse che vive ancora con la mamma comunque in condizioni economiche molto precarie lui ha un lavoro che lui dice comunque piacergli moltissimo ma in cui purtroppo ragazzi spesso subisce sopprusi spesso subisce anche i dispetti da parte dei propri colleghi e quindi cioè lui lo vediamo come sì magari un tipo un po' bizzarro c'ha questo non so come si può definire questa patologia diciamo così questo problema che lo porta a ridere ad avere questa risata poi incredibile nei momenti sembrerebbe essere meno opportuni che quindi lo portano a sentirsi ancora di più a disagio perché magari sono momenti di tensione in cui mettersi a ridere sembrerebbe essere veramente ragazzi assurdo ma lui si vede che effettivamente ragazzi quella risata non è una risata autentica perché Phoenix è stato così bravo da essere capace di ridere con quindi con la Bokkar ma in quei momenti ragazzi basta guardargli gli occhi e vedere una sofferenza indicibile quindi Phoenix per questo dicevo che è stato leggendario è stato incredibile in ogni suo aspetto e quindi c'è questo sviluppo perché lui all'inizio lo vediamo così lo vediamo un po' bizzarro un po' un tipo un po' strano un tipo un po' sopra le righe ma effettivamente di base innocuo che cerca di fare bene il suo lavoro ma che ragazzi arriva un momento che è portato all'esasperazione viene licenziato addirittura perché perché un suo collega gli aveva dato una pistola ovviamente con la finalità poi di fargli del male nel senso di dirlo di spifferarlo al capo eccetera insomma ragazzi quest'uomo lo vediamo innocuo vediamo un uomo un po' strano che però si fa i fatti suoi che prova un minimo a sbarcare il lunario si prende cura della mamma che effettivamente mentalmente non ci sta tanto e che quindi viene portato all'ennesima potenza alla fine di tutto ragazzi all'esasperazione da questi stessi personaggi che certa gente dice non essere di spessore perché per esempio scopre ragazzi che la mamma era stata ad Arkham per insomma problemi psichici anche abbastanza gravi che lui probabilmente era stato adottato poi c'era tutto questo questo casino sul fatto che la mamma diceva che lui fosse figlio di Thomas Wayne quindi ti lasciano anche questo dubbio che lui fosse o meno figlio di Thomas Wayne perché alla fine non viene effettivamente spiegato se effettivamente fosse così o no e quindi scopre di essere stato adottato mentre prima gli aveva detto che suo padre era Thomas Wayne scopre ragazzi che quando lui era molto piccolo la mamma aveva permesso al proprio compagno di abusare di lui di fargli del male di picchiarlo di legarlo al termosifone causargli un trauma cranico che appunto le aveva portato poi questo difetto diciamo così della risata incontrollata insomma il personaggio della mamma è molto fondamentale perché lui è morbosamente comunque attaccato alla figura di sua madre lo si capisce comunque dall'inizio del film e quindi poi scoprire tutto questo scoprire che la mamma gli aveva mentito da sempre che non gli aveva detto certe verità e tutto il resto appresso già quello ragazzi è un colpo allucinante per lui per la sua psiche infatti arriva ad ammazzarla quindi già questo poi ragazzi il primo momento di violenza eccolo qua che secondo me segna il cambio il primo cambio fondamentale fra Arthur Fleck fra Arthur Fleck e Joker è quello in cui ammazza i tre tipi nella metropolitana perché subendo nuovamente supprusi di nuovo ragazzi questi che lo prendono di mira che lo picchiano così gratuitamente scene che ti fanno venire nervoso tra l'altro perché sono stati così brevi da farti empatizzare con lui perché effettivamente è uno che sta subendo ingiustizie dall'inizio e lui arriva con sta pistola ragazzi li ammazza così a sangue freddo e si vede poi che fugge dalla metro quella ragazzi è una scena epica è una scena meravigliosa fugge dalla metro si rinchiude in un bagno è lì che segna il cambio fra Fleck e Joker lui è in questo bagno da solo e inizia a danzare quindi questa danza incredibile che è riuscito a inventarsi Phoenix ragazzi queste movenze incredibili assolutamente uniche è quel momento già un momento epico ragazzi quindi questo primo momento di violenza poi l'altro momento di violenza in cui appunto ammazza la madre così a sangue freddo senza il minimo rimorso e dopodiché il collega che gli aveva fatto un torto ragazzi perché gli aveva dato la pistola e poi aveva spifferato tutto al capo lo va a trovare a casa assieme a un altro suo collega nano e quello è il momento in cui Phoenix già in cui Fleck scusate già è totalmente Joker perché si vede poco prima che comunque si tinge i capelli di verde ci sono tanti momenti assolutamente epici in questo film ragazzi in cui si forma si crea questo personaggio incredibile quindi momenti prima lui si era tinto i capelli di verde si era dipinto la faccia di bianco perché stava truccando per andare al Murray Show e quindi in quel momento lui è già Joker a lui non a lui non fa alcuna differenza ammazzare con così tanta rabbia e violenza il suo collega perché gli ficca le forbici in gole in un occhio e poi ragazzi gli spappola la testa contro il muro quindi la violenza è assolutamente forte in questi momenti ma siccome vi dicevo non è stata usata tanto ma è stata usata bene perché in momenti così si capisce quanto lui comunque abbia una rabbia repressa dentro di sé che in momenti simili può esplodere quindi che può esplodere da un momento all'altro e scatenarsi in tutta la sua forza e però ragazzi un altro aspetto molto importante che sembrerebbe farci sembrerebbero averci fatto vedere che quest'uomo dentro di sé comunque abbia conservato un minimo di umanità e di sensibilità per assurdo perché in questo momento ragazzi in cui ammazza il suo collega c'è il suo collega nano poverino che invece è terrorizzato però lui poi ragazzi lo fa andare via lo lascia andare via gli apre addirittura la catena della porta e gli dice tu sei stato l'unico che è sempre stato gentile con me gli dà un bacio e lo fa andare via anche questo credo che sia un segno molto forte di quello che vi ho detto poco fa nel senso che dentro di sé sembrerebbe aver mantenuto dietro questa maschera di violenza di totale apatia sembra aver mantenuto un pizzico di sensibilità perché lui è arrabbiato lui è arrabbiato ragazzi con la società la società che viene dipinta in maniera assolutamente terribile e quindi è questo cioè questa è l'essenza del Joker è lui che da essere umano maltrattato da tutti da chi lo circonda maltrattato dalla società che invece ignora le persone che sono nella sua condizione è lui che diventa così diciamo che non lo so ragazzi è questo cioè è questo Joker è questa trasformazione incredibile graduale che c'è nel film cioè poi anche il personaggio di Murray è assolutamente importante perché lui lo aveva idealizzato lui voleva fare il comico e quindi lui guardava sempre il suo show lo aveva idealizzato lo vedeva come una figura assolutamente importante per la propria vita e quando alla fine ragazzi il Murray manda il video del suo spettacolo in un locale prendendolo in giro già lì gli scade parecchio poi a maggior ragione quando lo invita nel suo programma perché dopo il suo insomma dopo aver mandato un'onda il suo video c'erano state tante risposte dal pubblico lì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso infatti lui va allo spettacolo con l'intenzione di ammazzarsi lui però in quel momento lui si rende conto che il problema non è lui ma sono gli altri in quel momento il problema è Murray che lo aveva invitato per soltanto per prenderlo in giro per prendersi gioco di lui e quindi in quel momento ragazzi altra un momento di violenza lui gli spara gli spara in faccia così totalmente a sangue freddo e lì poi c'è proprio l'apoteosi alla fine perché lui va via dallo studio e ragazzi c'è poi tutta questa scena di Gotham in preda al caos più totale e lì si esprime questa incredibile essenza che è Joker cioè il caos quindi adesso non voglio ragazzi dilungarmi ancora di più perché penso appunto di aver parlato troppo tempo ma veramente è tutto quello che mi sentivo di dire sicuramente mi sarò dimenticata qualcosa che avrei voluto dire ma che adesso non mi è venuto in mente però in ogni caso ragazzi questo film è stato assolutamente incredibile mi ha assolutamente sconvolta dentro quindi fatemi sapere ovviamente ragazzi come vi dicevo il vostro parere se lo avete visto che cosa ne avete pensato che emozioni vi ha trasmesso per cui questa recensione termina qui io vi chiedo scusa per l'immensa lunghezza grazie a tutti un bacione e obdoscio a tutti ragazzi da Giocherina ciao